Nella puntata precedente c'è uno spettro misterioso, questa è la puntata nuova, la terza non la faccio a pezzetti, state capendo quello che dico io, non so dire certe parole, quindi le faccio tutte oggi, questa è la parte 3, no, scusate sto sbagliando pure questa parola, allora, dopo questo video ci sarà l'ultima parte, vediamo se Luigi si trova, vediamo se Luigi si trova, vediamo se lo spettro misterioso sarà dove è Luigi, Allora, scusate non dovete cliccare il video che c'è in questo video, scusate, ci saranno tipo due informazioni, o chiedere all'ospetto misterioso oppure indagare ancora, Dovete scegliere il video, ma non si spunterà nello schermo di questo video, lo dovete cercare voi, non c'è scritto il terrore della storia di Super Mario Ok, possiamo cominciare il video Cioè, in quel video c'è scritto il terrore, no, c'è scritto indagare ancora, oppure, no, scusate, il video è il terrore della storia di Super Mario Cioè, cerca, il terrore della storia di Super Mario Indagare ancora, oppure, scegliete Chiedere allo spettro misterioso dove è Luigi Quindi Allora Allora, cominciamo Quindi, Yengar, Yengar, tu sai dove, tu sai dove, dove si può trovare, dove si può trovare Luigi Scusate Scusa, spettro misterioso, ma cosa ci facevi qua? Ero da solo, mi stavo cercando degli amici e vi sono imbattuti a voi Posso diventare amico? Non sei un membro di Super Mario? Non sei neanche del Nintendo? Non sono della marca della Nintendo Sei un Pokémon Battle? No! Aio! È stato imbattuto Aspettate Ringrandisco così, vedete? Si ringrandisce sempre così Lo vedete? E là Aio! Non mi mettere in telecamera! Ti vedi? In tutto il pubblico Aio! Non ti sopporto Best of YouTube Ok Allora Ragazzi Todd Vuoi parlare? Sì? In tranquillità E lo devo ascoltare tu È da tanto Che non troviamo Luigi E questo mi fa sentire Brutto Perché Con lui Io Yoshi e Luigi Siamo il miglior club Il miglior club Di quale club? Il club Di tutta Il club dei divertenti What? What? Sì È la schiena di Among Us E quindi Mi dispiace E quindi Dobbiamo trovare subito Luigi Allora Allora Passiamo direttamente Il problema attuale Scegliere il video corretto Facciamo discuterli tutti Ragazzi Io so cosa scegliere O facciamo indagare O facciamo indagare O facciamo indagare O chiediamo al telegiornale Di far aiutare Tutto il pubblico A cercare Luigi Oppure Con le fiamme del fiore di fuoco Che tutti Che tutto può vedere Può sentire Luigi Sì Ma io Io ho una idea migliore Creiamo un club con io e Yoshi Ridiamo tutto il tempo A lui ci viene Oppure Oppure Mettiamo il suo colore preferito verde Un tappeto bellissimo verde Che noi